dalla parte opposta rispetto agli enormi appartamenti del re rivolti verso il golfo di napoli il lato del potere ci sono gli appartamenti più raccolti della regina disposti in una separazione simbolica verso il parco luogo di delizio i migliori artigiani della zona furono impegnati nell'arredo e nel decoro delle sale come la stanza da lavoro della regina maria carolina figlia di maria teresa d'austria e moglie di ferdinando quarto le pareti sono rivestite di raso giallo e impreziosite dalle grandi specchiere provenienti dalla real fabbrica di castellammare tra i dettagli più curiosi l'orologio a forma di gabbia dorata dono della regina di francia maria antonietta sorella di maria carolina due piccole porte conducono alla parte più privata il bagno della regina uno scrigno di sorprese decisamente all'avanguardia per il tempo la vasca da bagno in marmo di carrara foderata di rame dorato con i rubinetti per l'acqua calda e fredda il bidet e la toilette i putti hanno gli occhi bendati in segno di riguardo per sua maestà ma è l'acqua corrente la novità più grande della regia io non vi lascio vivere finché non m'avrete portato l'acqua caserta disse re carlo di borbone a luigi van vitelli e lui gliela portò l'acquedotto carolino grandiosa impresa di ingegneria idraulica perfettamente inserita nel suo ambiente naturale fu costruito sul modello degli antichi acquedotti romani a dimostrare ancora una volta la potenza dei borbone scopritori di ercolano e pompei e desiderosi di porsi a confronto con le imprese più grandi degli antichi in gran parte interrato l'acquedotto lascia scoperti alla vista gli straordinari ponti della valle un'imponente struttura in tufo alta 95 metri che ai tempi fu il ponte più lungo d'europa capace di resistere nei secoli a tre terremoti